Morsio di lupo! Spero che tu non abbia il mio mal di testa. Che notte, Pierre. Sono pronto a partire quando vuoi. Sono pronta. Il Regno Franco, terra di Carlo Magno e amaro premio di Dio. Ragnar, che razziò Parigi per ricavarne argento e lacrime. Ora si erge un nuovo re, che unisce le genti contro i norreni e getta la sua ombra sull'Inghilterra. Devo impedire al re folle di portare la guerra oltre il mare. La sua armata si riunisce e i corvi già volano su Parigi. Ben arrivata tra noi! Cosa? Nessun petulante emissario di re Carlo ad accoglierci? Credimi, morso di lupo. Non tarderà a darti il suo caloroso benvenuto. È opera del re folle. Sua è anche nostra. Dei, questo è ciò che faremo. Dei, questo è un po' di rave, Storp. Esatto. Ci siamo quasi. Ma non possiamo navigare fino a Parigi. I ponti dei Franchi ci bloccano la via. Pertor! Ma che ti ha preso? Viviamo nell'entroterra. Da qui ci muoveremo a cavallo. Gli altri ci seguiranno a piedi. C'è pericolo di imboscate. Non se stiamo vicini all'acqua, e non di notte. Siegfried si è mosso con efficacia. Io finirò di scaricare la nave. Voi andate avanti. Molte grazie, Pierre. E, Eivor, c'è qualcosa di cui dovremo parlare quando arriverò a Melan. Intanto, buon viaggio. In sella. Sarà un viaggio breve. Cosa dirò a Siegfried? Avevo il compito di recuperare Asche. Pensa a me come suo erede. Quattro! O cui? Voi? Ah, ok. Voi. Voi? Voi. Voi. Grazie a tutti. 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 Ti prendo e ti apro in due! Ispeziona l'area, Sinin. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuta a Mellan. Grazie a tutti. 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 Dici davvero? E cos'altro? Spade, gemme preziose, vino! Storie. Dello spettro di un santo parigino. Horik ne fu così colpito che liberò i cristiani e giustiziò i razziatori. Davvero? Non sembra una cosa gloriosa. Ecco, io metto il nemico nelle tue mani, perché tu faccia di lui ciò che ritieni più giusto. Uccidete i pagani. Datemi la testa di Siegfried, è anche dell'altra. Il bamboccio vivrà per raccontarlo. Il cosa? Vescovo Engelwin. Sarà una bella notte. Oh, merda. Devo stare molto attenta. Ora sopprida! Hanno il vantaggio dei cavalli, ma non basterà. Guido io! È la tua ora! Guardatevi le ombre! Io ci darò! Tengo me! Odino ti aspetta! Fuori! La moglie! Non mi scappi! Dove è andato, Engelwyn? Siegfried, aspetta! Che cosa ti ha detto? Toca, assisti i feriti e vada alle sentinelle. Avrebbero dovuto avvertirci dell'attacco. Te lo dicevo che odia essere interrotto mentre mangia. Quel soldato avremmo potuto interrogarlo. Tanta foga, ma poca testa. Oh, mi piace. Dove sta andando, Siegfried? Credo alla ricerca del vescovo, Engelwyn. Lo odia più di tutti gli altri. È stato lui a uccidere Sinric. Sì, suo fratello di spada e tuo padre. Mi dispiace, Toca. Nulla è cambiato. Ma gli attacchi sono sempre più frequenti, come vedi. Randvi non sbagliava. Devo intervenire prima che arrivi in Uarravesdorf. A meno che tu non convinca il re ad arrendersi, ti toccherà uccidere tutti i suoi soldati. A meno che tu non vedi. Allora andrò a incontrare Carlo e cercherò di negoziare con lui. Col re? Quel maiale codardo ti accoltellerà non appena gli volterai le spalle. Meglio ucciderlo che fidarsi di lui. Il problema è più grande di un re, Toca. Devo parlargli. È ciò che si aspetta il mio clan. Forse hai ragione. Ma in fondo non sono io quella che dovrai convincere. Se uccidi Engelwin, forse Siegfried potrebbe aiutarti a trovare Carlo. Inizi a pensare da Jarl, Toca. Per due volte i nostri ricognitori hanno seguito Engelwin nel sud di Parigi. Quando sarai pronta, là troverai Siegfried. Raggiungerò Siegfried e tornerò quando Engelwin sarà morto. Poi troveremo Carlo. Eivor! Sono qui! Per due volte i nostri ricognitori hanno seguito. Per due volte i nostri ricognitori hanno seguito. Per due volte i nostri ricognitori hanno seguito. Grazie a tutti. 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 Dai... Grazie a tutti. Eiffel... Grazie a tutti. ...